Più di 120 km percorrendo in bici diversi paesi della vallata del Foglia. Il sesto trofeo giovani promesse, nonché la gara ciclistica per la categoria Juniores, darà vita domenica 25 giugno ad una competizione ardua sin dalla partenza prevista alle 15 nel centro di Bottega. Traguardo che sarà tagliato nello stesso punto dopo che i giovani ciclisti avranno percorso 10 giri di 9,3 km l'uno e poi gli ultimi due dalla lunghezza singola di 13,8 km. Una gara che si svilupperà su diversi dislivelli da Montecchio a Padiglione passando per Colbordo le Talacchio. Più di 100 i ciclisti che parteciperanno abbracciando 16 diverse società provenienti da Marche, Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e Campania. I primi 90 km in un falso piano poi alla fine perché non è proprio semplicissimo, quindi un circuito da ripetere 10 volte con questi leggeri saliscendi ma che alla fine sono impegnativi per poi arrivare fino a su agli ultimi due giri per arrivare a fare la salita di Talacchio fino ad arrivare a Colbordo dove ci sarà anche un Gran Premio della Montagna e quindi gli ultimi due giri che sono decisamente impegnativi perché anche perché questi ragazzi come dico essendo juniors sono i futuri campioni per cui ci piaceva un attimino e ci piace, ci è sempre piaciuto fare un circuito dove ci sia qualche particolarità, dove il campione se vuole viene fuori e qui possiamo dire che i campioni nel tempo ce ne sono stati, già da tanti anni fa ma anche adesso i campioni che hanno vinto qui o sono arrivati nei primi tre, alcuni sono già nel giro della nazionale e qualcun altro è già diventato campione del mondo e dei direttanti. Si parte, si va verso Montecchio quest'anno e si sale su, si va verso la zona del piano del bruscolo, zona industriale di Talacchio e si ritorna a Bottega. Questo lo facciamo per dieci volte. Poi invece dalla zona industriale si sale per Talacchio e Colbordolo. Siamo molto orgogliosi nel nome di Leandro Romani che è stato un grande organizzatore del ciclismo nel territorio di questa provincia per il circuito degli assi sul mondo di Colbordolo, le corse del Giro della provincia di Piso Urbino, le tappe del Giro d'Italia, insomma è stato un grande organizzatore. Questa è una tappa fatta apposta su misura per Vallefoglia, Vallefoglia è in parte il territorio di Tavuglia. È una bella gara e sono tutti giovanotti che poi diventeranno diciamo dilettanti poi professionisti.